Prato, hai perso tempo già da un po', c'è un manicomio vicino al prato, cos'è stato tra di noi? Cosa è stato tra di noi? E volevo entrare nella tua fragilità, andare a guardare il sole che sorge in Africa in cerca di una storia, di una storia, di una storia. In cerca di una storia, di una storia, di una storia da raccontare a te. Vuoi fare tutto in un secondo? Che quando mi guardi diverso e profondo, c'è un mare calmo dentro te. E la luna mi dice, vieni qua. C'è ancora qualcosa da fare. E la luna mi dice, vieni qua. C'è ancora qualcosa da raccontare a te. Oh, volevo entrare nella tua fragilità, andare a guardare il sole che sorge in Africa in cerca di una storia, di una storia. In cerca di una storia, di una storia, di una storia, di una storia da raccontare a te. Oh, raccontare a te. Oh, raccontare a te. Oh, raccontare a te. Alla strana, di una storia, di una storia, di una storia, di una storia, di una storia. Alla seconda voce, Sweat d'Irego. Alla basso elettrico, Ter Bogari. E' la batteria, Tommaso Loppa! Cos'è stato tra di noi? Cos'è stato tra di noi? Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie al governo, grazie a tutti, ciao!